Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video In questo video come potete vedere mi è arrivato a questo pacco da Amazon di cui farò l'unboxing e la recensione Che cos'è? E' un kit di softbox per illuminazione di video e foto Prima di lasciarvi al video vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale Di andare giù in basso e cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video Credo di aver detto tutto quindi vi lascio al video Vado subito a fare l'unboxing E procedo ad aprirlo da questo lato Naturalmente dopo due secoli il nostro eroe riuscì ad aprire il pacco Se vi serve della carta la ho Vado subito a tirare fuori il prodotto dal pacco All'interno troviamo un altro pacco Che è uno scherzo questo Vado ad aprire anche questo Se le forbici me lo permettono lo apro Dopo il pacco nel pacco cosa troviamo? Un pacco, no, a parte gli scherzi Metto da parte un attimo questo qui per farvi vedere cosa c'è al suo interno Troviamo una custodia per il trasporto che metto qui Poi ci sono una e due sacche E ci sono varie scatolette Ecco qua Comincio da queste due scatole E troviamo nella prima confezione troviamo un enorme lampada Che è da 135 watt e ha questo attacco classico Nella seconda confezione ne troviamo un'altra identica E ora vado subito ad aprire queste due sacche Ecco qua il contenuto Abbiamo questo che è il primo softbox Che dopo vi farò vedere meglio anche come montarli E' un softbox senza lasta Un interruttore ed una presa Naturalmente nell'altra sacca troviamo lo stesso contenuto Invece in queste ultime due scatole un po' più grandi Che sono rimaste Che vado ad aprire troviamo Ecco qua Un'asta per tenere il softbox Naturalmente di qua c'è anche l'altra Ed ora metto da parte questo tavolino E metto da parte tutte le scatole e scatoloni Vi faccio vedere l'assemblaggio di questi softbox Comincio ad aprire questi due cavalletti Quindi parto dalla base Che si apre in questo modo Ecco qua Il primo Che metto di qua E poi qui abbiamo due regolazioni per l'altezza Per fissarli come potete vedere si agganciano In questo modo E poi si va a stringere Prima di mettere il velo davanti Vado a mettere questa lampada E quindi la avvito al suo interno In questo modo E quindi prendo il velo di copertura Per fare la luce soffusa E vado ad attaccarlo Ecco fatto Ho finito di montarne uno Questo è come si presenta Ed ora vi faccio vedere anche Come fa luce da acceso E quindi vado ad attaccare la presa Per vedere quanta luce fa Quindi vado ad accendere questo softbox Naturalmente non vedo più niente Perché non l'ho girato verso la parete Tutto calcolato Per quanto riguarda la struttura del softbox Ho trovato che queste asse sono molto buone Nonostante siano abbastanza leggere Fanno il loro lavoro Ebbene le ho finiti di sistemare Per farvi vedere Quanta luce fanno Faccio questa piccola prova Come potete vedere Illuminano anche parecchio Naturalmente ora sono messi molto vicini Per illuminare questo piccolo angolo Ma vi assicuro che fanno parecchia luce Se siete interessati all'acquisto di questi softbox Vi lascio giù nella descrizione Il link per acquistarli su Amazon Se avete delle domande su questi prodotti Qualcosa che non avete capito O dei dubbi Lasciate un commento giù E vi risponderò breve Vi ricordo di lasciare un piace Iscrivervi al canale Se ti è piaciuto questo video Per non perdere altri contenuti Credo di aver detto tutto Ed ora vado a sistemare tutto questo casino Di scatole e scatoloni Ciao